Con commozione prego per loro ed esprimo la mia vicinanza a questi popoli, ai familiari delle vittime e a tutti coloro che soffrono per questa devastante calamità. Commozione, vicinanza, incoraggiamento, solidarietà, sono i sentimenti che il Papa ha espresso dopo il violento terremoto di lunedì che ha ucciso almeno 9.500 persone, la stima è provvisoria, e ne ha lasciato altre 380.000 senza casa nella sola Turchia. Dopo i due telegrammi e annunzi dei rispettivi paesi e dopo il tweet di ieri dall'account Pontifex, Francesco ha espresso verbalmente la sua angoscia per la popolazione che ha visto crollare dinnanzi ai propri occhi case e città e morire ai propri carichi. Ringrazio quanti si stanno impegnando per portare il soccorso e incoraggio tutti alla solidarietà con quei territori, in parte già martoriati da una lunga guerra. Preghiamo insieme perché questi nostri fratelli e sorelle possano andare avanti davanti a questa tragedia e chiediamo che la Madonna li protegga. Il Papa ha invitato alla preghiera e come ha fatto sempre in ogni udienza generale del mercoledì, in ogni Angelus della domenica dal 24 febbraio 2022 ad oggi, non ha fatto mancare un pensiero per l'Ucraina aggredita, dove si registrano nuovi attacchi nell'oblast di Sumi nella zona nord-orientale e dove si teme una nuova offensiva su larga scala ad est nei prossimi giorni. Nel corso della Catechesi Francesco ha ripercorso il viaggio apostolico nella Repubblica Democratica del Congo in Sud Sudan, sottolineandone innanzitutto il carattere ecumenico. In Sud Sudan il Papa è andato in quello che ha definito un pellegrinaggio di pace con l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, e con il moderatore dell'Assemblea Generale della Chiesa di Scozia, il reverendo Jain Grinshels. Siamo andati insieme per testimoniare che è possibile e doveroso collaborare nella diversità, specialmente se si condivide la fede di Gesù Cristo. Francesco ha ripetuto i tre aggettivi che descrivono l'Africa, colonizzata, sfruttata, saccheggiata. Di fronte a tutto questo ho detto due parole. La prima è negativa, basta, basta sfruttare l'Africa. La seconda parola è positiva, insieme. Insieme nel nome di Cristo, nostra speranza è andare avanti.